Allarme e sicurezza nelle zone periferiche di Modica e in particolare incontrata San Filippo, Serra Uccelli, a comunicare l'escalation di furti in appartamento, sono gli stessi residenti ormai esasperati e preoccupati per vari episodi verificati nelle scorse settimane. A farsi portavoce di tale pericolo è lo stesso comitato di quartiere che commenta, considerando i modi e i tempi con i quali si sono verificati i furti, quasi tutti nelle ore notturne in presenza nelle abitazioni di persone, i fatti lasciano particolarmente sconvolti. Al di là del danno economico subito, si mette in pericolo la vita privata colpendo i cittadini psicologicamente nella loro intimità domestica, vivendo in uno stato di ansia e paura continua. Il comitato chiede quindi all'amministrazione di farsi garante della sicurezza e ringrazia le forze dell'ordine per la costanza con la quale si prodigano per tutelare e difendere l'incolumità dei cittadini, ma rileva l'esiguo numero di unità per il vasto territorio comunale. Auspichiamo un impegno sinergico di chi di competenza per chiedere un aumento delle forze dell'ordine, i carabinieri e polizia affinché possano vigilare continua il comitato, il territorio in orari serali e notturni. Fondamentale come deterrente risulterebbe l'installazione di diverse telecamere di videosorveglianza in tutta la zona. Questo, insieme a un potenziamento dell'illuminazione pubblica, potrebbe già scoraggiare diversi malintenzionati che ad oggi hanno invece vita facile nell'agire quasi indisturbati. Non a caso, proprio in queste zone, totalmente scoperte da videosorveglianza e buie, è dove si registra il maggior numero di furti in appartamento.